ciao a tutti e benvenuti nella mia rubrica i consigli del giorno oggi vediamo come realizzare questo cordino tubolare allora iniziamo prendendo il filato io in questo caso prendo una fettuccia e un uncinetto adatto insomma per lavorare questo questo filato allora non inizio però dalla base diciamo il filo vicino a dove è stato tagliato ma diciamo prendo un pezzo diciamo un pochino più lungo a seconda di quello che devo fare insomma quanto lungo può essere il mio lavoro e diciamo quando ho deciso la lunghezza che mi serve vado a fare un gappietto e comincio il lavoro quindi prendo il filo davanti che è quello che va a finire e lo carico sopra all'uncinetto questo modo adesso invece prendo il filo quello che va verso il gomitolo che rimane dietro lo carico sull'uncinetto e vado a chiudere le asole di nuovo il filo che è davanti carico vedete quando poi faccio passare non lo lascio dietro lo porto davanti faccio rimanere davanti e quello che è dietro lo carico sull'uncinetto e poi ci vado a chiudere le asole quindi filo davanti lo carico sull'uncinetto da davanti verso il dietro e rimane davanti poi filo carico l'altro dietro sull'uncinetto e chiudo e vado avanti così quindi filo davanti carico in questo modo sull'uncinetto me lo porto avanti con quello dietro chiudo se vedete che qualche punto non è proprio tutto uguale agli altri tirate in modo che si diventa omogeneo anche quello che non è uguale insomma ok che la fettuccia poi è molto elastica quindi si presta bene continuate questa lavorazione finché non siete arrivati alla lunghezza necessaria ed è tutto qua quindi questo tutorial terminato spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao a tutti